Nuovo giorno, nuove avventure. Oggi devo dire giornata un po' strana, comunque sveglia per le 8, un quarto più o meno, subito coccoleanina e poi ho deciso che ero veramente stanca di questi fiorellini, quindi cambiamo questo coperfiumone. Mettiamo nel lavatrice e torniamo al famosissimo Total White. Skincare, perché mi sono ricordata di avere una col e un pochino di make-up, volevo provare questo prodotto di Pixi, molto molto bello. E poi call. Dopo aver pulito tutto Nina decide di rovinare il mio lavoro rompendo tutti i suoi giochi. E poi nel pomeriggio, dopo pranzo, ricomincio un po' a lavorare. Mi è arrivato un pacco e avevo comprato questa cover trasparente. Per il telefono io uso solo cover trasparenti. Ho filmato una nuova puntata del podcast. Subito dopo mi sono preparata per uscire, sono tornata per le 8, meno 20, meno un quarto, c'era ancora un sacco di sole. Ho fatto una doccia e ho messo questo olietto di soldeggio nero pazzesco. Skincare con la vitamina C. Io odio l'odore della vitamina C che mi rimane sulle mani, quindi non riesco proprio ad utilizzarla. C'era ancora una luce bellissima in camera mia. Ora, dopo cena, mi metto a montare la puntata del podcast che spero di far uscire domani. Speriamo. Buonanotte! Buonanotte!